Olimpia Agnionese Pineto termina 3 a 1 per i Granata, punti d'oro per gli altri molisani che vengono risollevati così dalla penultima posizione in classifica. Ma anche il Pineto arriva a caccia di punti necessari per i playoff, presupposti che si riversano tutti nel match. E la migliore occasione la vediamo al tredicesimo con il tentativo di ancora riservire Formuso che manca di pochi centimetri l'impatto con la sfera. Assistiamo ad una prima frazione di gioco in cui nessuna delle compagini si scopre e gli ultimi metri sono difficili da raggiungere da ambo le parti. E arriviamo così al quarantunesimo minuto per annotare questa conclusione di Tomassini che termina alta. Poco dopo è la volta di massa con una conclusione che questa volta finisce a lato. Proprio agli sgoccioli del primo tempo, esattamente al quarantasesimo minuto, il Pineto finalizza la sua migliore occasione con Tomassini che firma il vantaggio. E squadre negli spogliatoi. A ritorno in campo la percezione di un cambiamento si avverte fin da subito, i Granata sono accompagnati da grinde e determinazioni. Al quinto minuto Diarrà trova la conclusione ma riesce ad arrivarci a Maddio e Angolo per i rocali. Con la sfera che nel prosieguo di gioco arriva ad Ancora che la spedisce però sul fondo. Arrivati al settimo minuto si ristabilisce la parità con Bisceglia che riceve da Ricciardi ed è uno a uno al Civitelle. Al diciottesimo minuto ancora un angolo guadagnato dall'Agnonese e dai piedi di Ricciardi arriva il cross intercettato da Corbo che svetta su tutti filmando il gol del sorpasso. Al trentacinquesimo minuto un calcio piazzato dalla distanza di Ancora si trasforma in un missile che finisce dritto in rete e va a mettere il sigillo sulla vittoria dell'Olimpia agnonese che disputa un secondo tempo di carattere. È l'Agnonese a tenere il pallino del gioco e lo mantiene fino alla fine lottando su ogni occasione a disposizione per restare attaccato alla salvezza. Sconfitta per il Pineto che esce amareggiato dal Civitelle ma consapevole degli errori commessi sul campo.